E qui faccio il numero uno, Berlotti Pulici, salutati anche dal suono delle campane, in Piazza Alberto Primo. Massimo Brega, Claudio Spillieri, Renault Clio Super 2006, che ricevono la tabella in questo momento, e pronti in via. Pagadini in contravazza. Ciao ragazzi, bocca al lupo, buon divertimento. No no, io di solito le taglio finissime. 5, 4, 3, 2, 1, vai, 50, destra 3, per sinistra 5, chiude 3, lunga alla pianta, chiude 3, lunga alla pianta. Destra 4, taglia sporca, lascia. A equipaggio che facciamo salire sul terzo grandino del podio, Igor Razzo, Paolo Rocca. A equipaggio, secondo classificato, Luciano D'Arcio, Mucci Faustino. Ora invito il sindaco di Pianello Lottisone, Valtinone, signor Forno Israni, a consegnare le coppe ai vincitori assoluti della seconda edizione Rally Castelli e Piacentini, Giaresini Baffioli. Grazie. Grazie. Grazie.